Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo il Loren e oggi vi portiamo il nostro potenziamento del mazzo influenza corrotta con il comandante Ixcel Shionovatrax. Allora, prima di iniziare vi invitiamo a lasciarci un mi piace e un commento per supportare questo tipo di video, visto che non sono mai tanto visti. Supportateci in questo modo che così ci invogliate a continuare a farli, altrimenti come facciamo spesso tagliamo i video dei potenziamenti, visto che se non li guardate e non vi piacciono allora ci concentriamo su altro. In descrizione vi lasciamo anche tutti i link delle prevendite della March of the Machine, visto che ieri sono usciti anche gli spoiler, parecchi spoiler. Ah davvero? Eh sì. Non l'ho guardato. Eh male, male. E passate anche nel gruppo Telegram e guardatelo, a differenza di che roba che non lo guarda mai, che se no saprebbe già tutte queste cose. Manca il tempo, manca il tempo qua. Comunque, in descrizione il link del Fantasia dove sono già disponibili le prevendite. Allora, niente, partiamo allora con, abbiamo trovato 8 carte da togliere, 8 da aggiungere. Pare che da aggiungere ce ne sarebbero tante. Esatto, però diciamo 8 anche abbastanza, la maggior parte economiche, parecchie di Firexia, tutto diverrà a 1, quindi sono anche facili da reperire. Allora, prima cosa, tireremo fuori il Canker Bloom. Un creaturina costo 2, è un 3-2, che ha l'effetto tappa 1 in colore, sacrificalo e scegli 1, distruggi un artefatto, o distruggi un incantesimo, o prolifera. È abbastanza versatile, però abbiamo preferito mettere dentro Necrogen Rot Priest, che è fortissima. Il Canker Bloom, ci sono già altre carte che distruggono anche fatti, incantesimo, cioè questo è versatile, però devi tappare 1 in più per sacrificarlo. C'è altro che fa cose più velocemente. Invece la Rot Priest Necrogen costa 4, quindi costa di più, però è un 1-5, quindi un ottimo parante. Ha Tossico 2, quindi se fa danno, 2 segnalini veleno. E ogni volta che una creatura che controlliamo con Tossico, infatti dando combattimento a un giocatore, quel giocatore prende un segnalino veleno addizionale, quindi dà sempre un segnalino veleno in più alle nostre creature che fanno danno che hanno Tossico. In più c'ha Tappa 3, di cui un nero e un verde. È una creatura che controlli con Tossico, prende Toccoletale fino a fine turno. Quindi se vengono parate, almeno ammazzano anche la creatura che le blocca, a meno che non sia indistruttibile. Però visto che Tossico è un'abilità che punta ad essere su tante creature piccoline, gli diamo anche un bel Toccoletale, così magari ci pensano due volte per bloccarle. Poi è forte anche sulla difensiva l'abilità che tappano 3 dai Toccoletale. Esatto, ti arrivi a un problema che hai parato con magari una creaturina misera. Esatto, anche perché puoi darlo dopo la dichiarazione di bloccanti, quindi non è come avere una creatura con Toccoletale, ma puoi dotare te quella che vuoi. Puoi darselo anche a se stessa. Poi una non comune di Phyrexia si trova facilmente. Esattamente. Altra carta da togliere, il Venomus Brutalizer. Costa 4, è un 4-4, ha Tossico 3 e quando entra in gama di battaglia possiamo pagare 2 in più, se lo facciamo proliferiamo. Sì, Fortina, Tossico 3, 4-4, però un po' lenta. Anche perché non è elusiva in niente, cioè ha solo Tossico e non ha altre abilità che possono essere più forti. Se vogliamo proliferare dobbiamo pagarla 6. Esatto, quindi preferisco evitare. Abbiamo deciso di mettere il Bloated Contaminator. Costa 3, è un 4-4, con Travolgere e Tossico 1. Ogni volta lui fa danno a combattimento a un giocatore proliferiamo. Quindi, visto che a Travolgere è molto più facile che i suoi 4 di danno passino. Almeno un 1. Esatto, basta che passi un danno. Basta che passi un danno, si attiva il proliferare, in più a Tossico 1. Costa 3, quindi costa anche 1 in meno. E non ha il doppio colore che non ha il doppio colore. Fa la differenza. È rara, quindi si può trovare un po' più difficilmente, ma non è un gran problema trovarla questa. Non l'abbiamo guardato, ma non credo che abbia un prezzo eccessivo. Penso che Massimo possa costare 5 euro. Anzi, adesso controlliamo magari che vi aggiorniamo in tempo reale. Comunque, è un'ottima carta. 3 euro. Sì, su 3 euro i prezzi di MKM, giusto? Esatto, tra MKM da 3 euro e 24 euro. Quindi ha un ottimo potenziamento. Esatto. E poi, anche perché, come diciamo, il proliferare, paradossalmente questa qui è molto più forte perché è evasiva. È più facile che farsi il segnalino tossico e prolifera anche. Esatto. Il brutalizer prolifera solo una volta, devi pagarlo di più e non è detto che piazzi mai dei segnalini veleno. Perché è difficile che non venga bloccata una creatura con Tossico 3. Esattamente. Poi dobbiamo iniziare a tirare fuori la mano alla mangiacarogne che costa 2, è un 2-2. Tappiamo un verde, esigliamo una carta verso da un cimitero. Se era una creatura mettiamo il segnalino più uno più uno sulla mano alla mangiacarogne e guadagniamo una vita. Perché sinceramente non sinergizza col mazzo, nel senso non ha Tossico, non ci fa proliferare. Quindi diciamo che poteva diventare una creaturina grossa, ma se non ha Tossico non va ad avvantaggiarci nella nostra strategia. Anche perché questo mazzo prolifera, ma non tanto come Atraxa. Esattamente. C'è questo che punta più a piazzare i segnalini veleno di suo. Poi prolifera anche, però non è il proliferare la cosa principale. E quindi la melma non diventerà grandissima. E a differenza della melma, che comunque... Abbiamo deciso di introdurre il Tiranax Rex. Carta che costa un po' di più, ma... Costa un po' di più, costa circa 8 euro. Ecco, si sta abbassando... Si deve regolare adesso che è uscita. In pre-vendita era molto di più e secondo me a questo prezzo qui conviene che lo recuperate perché è una creatura molto forte. Esatto, costa tanto da giocare. Costa 7 mana di cui 3 verdi. Però è un 8-8 che non può essere canterato, quindi quando lo lanciate entra sicuro. A travolgere. E g da 4. Quindi se vogliono bersagliartelo devono pagare 4 mana in più e non è poco. Ha rapidità, quindi appena entra può attaccare. E ha Tossico 4, che è fortissimo. Quindi diciamo che facilmente quando lo giochiamo piazziamo 4 segnalini di veneno. O comunque gli tiriamo via parecchi problemi perché se ce lo bloccano fa 8 danni. Eh, esatto. E sicuramente entra e sicuramente attacca perché le gira 4 e ha una super protezione. Esattamente. Quindi molto molto forte il Tiranax Rex. Altra carta da togliere, il Mikosint Find. Costa 3, un 2-2, prende più 1 più 1 per ogni segnino di veneno che i nostri avversari hanno. Ok, diventerebbe forte come la melma mangia carogna di prima, ma come prima non ha di suo tossico o infettare e non prolifera. Quindi non avvantaggia il mazzo in generale. Insomma è una creatura comunque forte, perché diventa forte visti tanti segni di veneno degli altri. Esatto. Ma che comunque è fine a se stessa, perché non è sinergica col mazzo, se non che cresce. Però non piazza segnalini di veneno, non è illusiva perché non travolge, non vola, non ha tocco letale, non ha nulla, è solo grossa. Esatto. Quindi abbiamo deciso di mettere dentro la campionessa di Lamboldt, che diciamo che è forte in praticamente tutti i mazzi. Costa 3, il costo è uguale, tranne che ha due verdi invece che uno solo. È un 1-1, quindi è più piccolina, ma le creature con forza inferiore a quella della campionessa di Lamboldt non possono bloccare tutte le creature che controlliamo. Ed è fortissimo per questo effetto. Quindi rende molto elusive le nostre creature con tossico e infect. E ogni qualvolta un'altra creature entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo, mettiamo un segnino 1-1-1 sulla campionessa di Lamboldt. Quindi giocando creature, lei si pompa. E a differenza del Mycosynth, questi piazza segnalini 1-1-1 che quando prolifereremo aumenteranno. Possiamo farli aumentare anche col proliferare, quindi si sinergizza meglio con il mazzo. C'è vero che se proliferiamo veleno su traversare il Mycosynth cresce di più, perché sono tre segnalini veleno in più totali. Però la campionessa cresce e rende più elusivi le nostre creature. Quindi molto forte la campionessa in questo mazzo, a maggior ragione, dove bisogna non essere bloccati. Altra carta da togliere è sempre di Phyrexia, che è già presente in questo mazzo. Infatti le carte di Phyrexia che erano presenti in questo mazzo non erano quelle eccezionali. C'era tanto di meglio, anche non raro, non comune diciamo. E il Bilios Skulled Weller, che è un insetto phyrexiano, costa un nero 1-1, detta Cetossico 1. Ok, questa poteva sinergizzare bene con il mazzo. Ma in realtà neanche troppo, perché una creatura 1-1 con Tossico 1 è una creaturina piccolina che va di contorno. Non farà mai il danno da Tossico questa qui, perché quando mai attaccherai in Commander con questa? È solo un parante con Toccoletale che ti tiri via un problema. Hai in più Tossico ma non lo useresti qualità. Esatto, quindi è ben deciso di toglierla e metterci dentro la Venerated Rot Priest. Ecco, questa invece è una carta che costa parecchio secondo me, perché è giocata anche in formati come penso Modern e Pioneer, perché è veramente veramente forte. Costa un verde a 1-1-2 con Tossico 1. Infatti sta a 11 euro. Ecco, carta fortissima, perché quando una creatura che controlli diventa avversaglio di una magia o abilità, no, target of pet, solo magia, un avversario o bersaglio ottiene un segnalino veleno. Esatto, quindi questa distribuisce segnalini veleno gratis. E vale anche se una tua magia bersaglia una tua creatura, perché non dice una magia di un avversario, ma una creatura che controlli diventa bersaglio. Quindi questa è molto più rognosa. Quindi se noi bersagliamo una nostra... Costa un verde, quindi è a pare di costo dell'altra, è un 1-2 quindi ha un po' più di costituzione, ha sempre Tossico 1, non ha il Toccoletale ma ci interessa poco, lei non deve attaccare, lei deve star lì e fare da tipo incantesimo che fa cose. Lei sta lì fino a che non verrà distrutta molto... E comunque quando verrà distrutta verrà bersagliata e quindi piazzerà almeno un veleno. Esatto. Un'altra carta che toglieremo è la rivendicazione delle liane saprofaghe, un incantesimo a costo 5 di cui un eron verde, che quando una nostra creatura muore guadagniamo un punto vita e peschiamo una carta. Quindi è un ottimo peschino. Costa un po' tanto. Esatto, costa tanto. È un'ottima carta, in verità, perché ci fa pescare, ci fa guadagnare una vita, ma ho visto che nel mazzo base ci sono diversi di peschini. Quindi ho detto tiriamo via questo perché costa tanto e mettiamo dentro invece lo Scralve Defector Might. È una creaturina 1-1 che costa un bianco, a tossico 1. Non può essere bloccato. Non può bloccare. No, è vero, non può bloccare. Però dice che tappando un Manafirexiano bianco e tappando lui scegliamo un colore. Un'altra creatura bersaglio che controlliamo prende tossico 1 e ha antimalocchio, dà un colore alla nostra scelta fino a fine turno. E non può essere bloccato dalle creature di quel colore in questo turno. Quindi praticamente rendiamo elusiva una creatura che vogliamo far passare. Rendiamo elusiva una creatura, gli possiamo dare tossico 1 e in più la possiamo anche proteggere. Perché possiamo proteggere per esempio il comandante grazie a Ex-Prof da un colore che lo rimuoverebbe. Vale solo una volta per turno, però considerando che lo possiamo fare a gratis pagando due punti vita senza Mana, è un'abilità molto forte. Esatto. Ci sono carte migliori, però questa sicuramente è molto... Poi non dovrebbe neanche stare a tanto come carta. No, Screlva, non penso proprio. No, in verità sì, sta a 6 euro. 7 euro praticamente. Eh, ma perché non è da sottovalutare, non è da sottovalutare Screlva. Pensavo di meno. No, no, una carta che può dirci qualcosa di interessante. Qui invece abbiamo la rinascita nociva. Costa un Manafirexiano verde. Verde, è un istantaneo, quindi può essere pagata con un verde o due punti vita. E mettiamo una carta a bresaglio da un cimitero in cima al grimorio del suo proprietario. Quindi ci farebbe tornare in cima al mazzo una carta che ci serviva magari. Però abbiamo deciso di tirarla via, visto che... Insomma... Sì, non è una carta malvagia. Esatto, non è malvagia, però abbiamo detto ok, una carta... Evitiamo. Però te la mette anche in cima al mazzo, c'è neanche in mano, quindi va bene che lo paghi poco. Sì. E quindi è utile, però non... Ok, che è istant, però insomma ho preferito metterci altro. Abbiamo messo Tyvar's Stand. Una magia non comune, instant sempre, di Firexia, della nuova Firexia. Costa un verde e X e dice una cartatura che controlli, prende più X più X ed ha antimalocchio indistruttibile fino a fine turno. Quindi si può utilizzare sia come magari una protezione... C'è una protezione, una carta difensiva con stone verde che è molto forte. Esatto. Perché è X prof indistruttibile. O se no, come praticamente una carta quasi da finisher, perché una nostra creatura che magari non è stata bloccata, in instant, se ci siamo tenuti molto mana stappato, la possiamo pompare con una marea di forza. Esatto, diciamo che possiamo potenziare, le creature con tossico non ne beneficiano troppo, però quelle con infect che ci sono, oppure il comandante, perché può fare anche parecchi danni da comandante. Esattamente. Quindi è una carta molto versatile questa. Allora, l'ultima modifica è togliere la Cargion Call, che è un istantaneo a costo 4. Che ci mette due insetti, uno 1 verdi, con infect sul campo di battaglia. Che non è male, però costa 4 per due insettini, ma non sono neanche... Che sono due insetti comunque, camminano, non volano neanche, volassero, fossero infette volanti, allora sarebbero un po' più pericolosi. Invece 2 1 1 così. Poi abbiamo il Triunfo dell'Orda, che è una carta molto molto forte, e infatti costa anche 10 euro. Esatto, per essere una non comune. È della... Questa qui è della Firexia, Nuova Firexia, mi sa che si chiama. Sì, Nuova Firexia, che è un'espansione vecchia. E una stregoneria a costo 4 con due verdi. E fino a fine turno le creature che controlliamo prendono più 1 più 1, travolgere e infect. Questa è praticamente una carta da finale. Questa qui è un'ottima chiusura, perché fa piazzare parecchi segnalini veleno. Esatto, cioè è bestiale questa carta. Se abbiamo abbastanza creature per attaccare, più 1 più 1, travolgere e infect. Poi, considerando che le creature con tossico, grazie a questa carta, prendono anche infect e travolgere. Quindi, se passa un danno, fanno già il loro tossico, più il danno che passa di infect. In più, le creature che vengono bloccate dalle nostre creature si tengono i segnalini infettare che... Segnalini meno 1, meno 1. Esatto, i segnalini infect diventano segnalini meno 1, meno 1, che restano su quella creatura permanentemente, fino a che noi non proliferiamo, non arriviamo alla Costituzione per ucciderli e vanno via. Quindi è bestiale anche questa carta. Triunfo dell'orda, super super carta. Tutto sommato, diciamo che abbiamo messo delle aggiunte non molto economiche, perché comunque il Tiranax Rex, la Roadpriester, Venerata, anche Screlve e il Triunfo dell'orda sono quattro carte che hanno un costo abbastanza importante. Però c'erano molte altre carte più costose da poterci mettere dentro. Quindi diciamo che questo mazzo si può potenziare anche con roba molto molto più sgrava. Abbiamo tirato un po' indietro perché non nessuno vuole giocarci contro questo mazzo. Sono quattro carte, queste qui che abbiamo detto che costano, ma che comunque potenziano bene il mazzo. E sono ancora abbordabili, diciamo. Sì, e lo saranno forse il Triunfo dell'orda, che più passa il tempo, perché è stato ristampato solo nella Mystery Booster e hanno fatto un Secret Lair, quindi c'è carenza di questa carta non comune e non penso mai che la ristampino non comune, perché penso che venga ristampata almeno rara se la dovessero ristampare. Poi dopo altre carte è abbastanza più facile da reperire. Insomma, a me sembra un buon potenziamento per migliorare questo Precon, che già di suo è molto forte. Calcolando che di base, col verde, ha già abbastanza carte che fanno rampare terre, quindi anche col Tyrann X-Rex non dovrebbe essere così difficile da lanciare. Tutto sommato, è un mazzo che gira bene e il problema è trovare qualcuno che vuole giocare contro i terre. È perché se i livelli sono un po' antipatici. È abbastanza. Niente, dai, allora vi ricordiamo ancora di lasciarci un commento e supportare questo video con dei grossi mi piace per vedere i potenziamenti dei futuri commander, visto che ne usciranno cinque in March of the Machine. Troppi. Se questi due video qui andranno bene, allora magari faremo anche i potenziamenti di quelli là o quantomeno di qualcuno. Quindi, insomma, sì, vi stiamo ricattando. Niente, direi che dall'antimete è tutto. Al prossimo video. Grazie a tutti.